Amici ben trovati, siamo appena rientrati, maestralone termico alle spalle e ottima pescata, ottima perché a bordo oggi c'erano tanti tanti giovanissimi, veramente simpatici e veramente anche bravi a sopportare le classiche 5 ore in barca dove mettano a dura prova anche pescatori esperti, anche ai professionisti che lavorano tipo me sul mare. Onda lunga, in parte un po' di vento, poi è mollato il vento, è uscito fuori il caldo, talvolta anche a foso, quindi tanti complimenti a questi giovani che sanno già come stare in barca e per loro il risultato è questo. Coadiuvati dai loro rispettivi genitori e nonni, è uscito un pochino di pesce nella qualità di boga e soprattutto oggi la giornata era quella della boga, con boga e sugarelli, qualche sgombro soprattutto nelle fasi iniziali quando c'era un pochino di vento, ma vi lascio subito agli highlights. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.